Ecco che entriamo. C'è un soggiorno grandissimo, luminosissimo, molto bello. Guarda che bello. Col giardino davanti e poi sui due lati ancora cucina abitabile, bellissima, grande, tenuto benissimo, asciuttissima la casa col posto esterno per mangiare barbecue. È bella, è introvabile così, è grandissima. Bagno di servizio da zona giorno, spettacolo, col torello, anche bel torello. Doppi vetri, doccia, grande. Sotto, caverna, garage doppio, cantina, lavanderia, ma quello venite a vederla. Adesso vi faccio l'altro filmato per la zona notte.